Odinet è un progetto di sviluppo, un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma PORCREO 2007-2013. Il progetto ha come scopo la ricerca e la definizione di un framework tecnologico per l'accesso, la diffusione e la categorizzazione dei dati strutturati e non strutturati nel web. Lo scopo era di utilizzare tecnologie di nuova generazione per permettere la categorizzazione di questi dati e la ricerca avanzata utilizzando strumenti semantici. Parallelamente abbiamo anche applicato la ricerca per l'esperimentazione nel contesto sanitario, economico e sociale. Il progetto Odinet si cala nel contesto attuale che viene comunemente definito come il Big Bang dei dati, ovvero un'esplosione di informazione che si trova reperibile sul web. Questa esplosione è dovuta a un insieme di fattori, prima di tutto all'evolversi delle tecnologie in quanto a connettività, quindi connessioni sempre più veloci ed affidabili. Dall'altro pensiamo a quanti dati noi utenti comuni produciamo tutti i giorni, quando usiamo il nostro telefonino, il nostro smartphone o quando ci connettiamo e postiamo qualcosa sui social network. Altro fattore sicuramente determinante è quello che comunemente è definito come il fenomeno degli open data, ovvero una presa di coscienza da parte di cittadini, di imprese, della comunità scientifica rispetto al patrimonio informativo che è a disposizione della pubblica amministrazione, la quale è spinta a pubblicare i dati che produce e renderli disponibili in modo aperto e riusabili anche commercialmente a tutti. Avere una grande quantità di informazioni a cui poter attingere è sicuramente una grande risorsa, una grande opportunità, ma dall'altro pone anche dei problemi per riuscire a fruire efficacemente dell'informazione che è a disposizione e quindi servono tecnologie nuove, servono nuovi strumenti e nuove metodologie. Il progetto Odinet è pensato per cercare di rispondere a questa esigenza. Sistemi Territoriali è un'azienda che nasce nel 1991 sulla scia di esperienze pregresse di alcuni suoi fondatori all'interno dell'Istituto Cluce CNR di Pisa. Nasce occupandosi di sistemi informativi territoriali, come dice chiaramente la ragione sociale, sistemi territoriali, e nel corso degli anni ha arricchito questa esperienza di altri settori tecnologici quali la business intelligence. Queste tecnologie, soprattutto quella della business intelligence, è evoluta negli ultimi tempi verso nuove frontiere di analisi sempre più sofisticate dei dati, occupandosi di big data, di open data, di web semantico, di graph data browsing e coniugando queste soluzioni e queste tecnologie con quelle di base tradizionali. Simuricec è una società di Livorno che da 20 anni si occupa di ricerche sociali e economiche nella loro accezione più ampia. I principali settori di nostra attività sono il supporto a tutti gli osservatori sia commerciali che sociali che vengono gestiti dalle province. Altri campi molto importanti sono quello delle pianificazioni, sia urbanistiche che commerciali. Siamo molto attivi nella parte di partecipazione, quindi tutti i processi partecipativi. Inoltre svolgiamo tutta una serie di attività relative alle scelte che devono essere fatte attraverso indicatori statistici per la programmazione di politiche sociali e sanitarie. Rete Sviluppo è una giovane società nata nel 2008 come spin off universitario di Firenze del corso di analisi politica e lo sviluppo locale. Nel corso degli anni ha maturato competenze e conoscenze nell'ambito della ricerca sociale, della ricerca economica e anche su quello della partecipazione della cittadinanza rispetto all'elaborazione di politiche pubbliche. Per questo motivo del sviluppo è entrato all'interno del progetto Odinet portando il proprio know-how rispetto al dominio economico, in particolare quello che è stato il nostro contributo rispetto a questo progetto è relativo alla costruzione delle ontologie per l'area economica ovviamente. L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche è il più grande istituto di biomedicina del CNR. All'attivo ha circa 500 ricercatori, tecnici e diciamo che si occupa del benessere della persona a tutto tondo. Il nostro gruppo si colloca all'interno dell'area dell'epidemiologia e infatti il gruppo di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari è un gruppo multidisciplinare di circa 35 persone. All'interno di questo gruppo coesistono, convivono statistici, matematici, epidemiologi, psicologi, biologi. Questo perché abbiamo bisogno di poter comunicare con le varie anime della ricerca. Gli ambiti di attività di CQR sono essenzialmente quella di fornire supporto tecnico, scientifico e operativo a studi e ricerche nel campo dell'epidemiologia e della statistica medica. Negli ultimi anni abbiamo fatto essenzialmente alcune attività di interesse nazionale, ma anche di interesse internazionale, collaborando con progetti della comunità europea e con progetti a livello nazionale. Il modulo di Data Integrator ha la principale funzionalità del data harvesting, cioè di recuperare dati dal web in maniera automatizzata. In questo modo è possibile ottenere un unico catalogo federato dove fare ricerche mirate. A questo scopo sono stati sviluppati diversi connettori per i vari portali, in particolare SICAN per portali come Dati Toscana, SDMX per portali statistici come Istat, Socrata e Protocollo OData per altri portali. Odinet è quindi in grado di ricavare in maniera automatica ed ottenere dai principali portali Open Data nazionali ed europei tutti i vari dati esposti. Diciamo che il modulo di Data Service è un po' il cuore dell'intero progetto e ha l'obiettivo di collegare la componente ontologica con quella dei dati secondo il principio dei linked Open Data. Sono stati individuati delle tematiche comune, delle parole chiave o dei concetti che fanno da tramite appunto fra l'ontologia e i dati e ci permettono di collegarli tra loro. In questo modo si crea una rete ontologica che collega i concetti più rilevanti dei vari domini ai nostri dati. Per arricchire il nostro patrimonio informativo abbiamo utilizzato i Big Data sfruttando il patrimonio informativo di Wikipedia. Tutti questi servizi vengono comunque forniti come web service. Il termine rete sociale è diventato noto una decina di anni fa con l'auge di Google e il motore di ricerca che ne fa grande uso soprattutto di tecniche di analisi di rete sociale. E' anche molto noto in relazione alle note a rete sociali tipo Facebook, Twitter e così via. L'utilizzo della rete sociale va molto al di là del contesto sociale. Noi in questo caso abbiamo applicato l'analisi della rete sociale per quel che riguarda il mondo della semantica e dei dati. Questo è il vero carattere innovativo del progetto Odinet e le applicazioni che abbiamo fatto. Di fatto noi utilizziamo l'analisi semantica per categorizzare i dati e per poterli poi ricercare secondo dei criteri innovativi molto avanzati. Nel nostro caso i concetti, i lemi e le categorie sono interconnessi fra di loro per costituire un'ontologia, un'ontologia che categorizza, diciamo, definisce la conoscenza del dominio. Questa ontologia insieme ai dati costituisce una grande rete, una rete sulla quale noi applichiamo degli algoritmi per individuare l'informazione secondo dei criteri di ricerca e per fare un'analisi, ad esempio, di centralità di concetti, di interrelazione di questi concetti per dare una risposta più adeguata, più, diciamo, precisa all'utente. Per rendere i risultati del motore di ricerca altamente fruibili dall'utente finale sono stati concepiti due moduli, il Data Viewer e il Data Explorer. Il Data Viewer ha come obiettivo quello di rappresentare graficamente i risultati di ricerca attraverso diverse visualizzazioni, tabellare, grafico o mappa. Il Data Explorer invece è uno strumento che permette di esplorare diciamo dinamicamente il grafo di ricerca e comprendere come sono stati ottenuti i risultati di tale ricerca. Nel costruire lo strumento Odinet noi siamo partiti da un'evidenza che la maggiore disponibilità di dati non sempre genera una maggiore conoscenza, soprattutto in ambiti come quello socio-sanitario che è un ambito di per sé complesso. Il nostro background professionale tra l'altro ci dice che questa complessità non può essere ridotta nelle sue componenti principali, ma è bene invece mettere in evidenza le relazioni che coesistono fra quelle determinanti di salute che trovano radice in vari settori del vivere comune, quindi il settore economico, il settore sociale e il settore sanitario. Il nostro obiettivo principale nel progetto era quello di costruire uno strumento che fosse fruibile da tutti quelli che si occupano di programmazione e management socio-sanitario, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista politico. L'Agenzia Regionale di Sanità è un ente della Regione Toscana che aiuta i nostri politici, sia quelli della Giunta che del Consiglio, a programmare e organizzare il servizio sanitario regionale, a prendere le migliori decisioni sulla base di informazioni scientifiche, ove possibile, e poi anche a monitorare che cosa accade della salute dei toscani a seguito di queste decisioni e valutarle nel tempo. Abbiamo partecipato al progetto Odinet mettendo a disposizione una parte consistente della nostra banca dati Marsupio, che raccoglie i principali indicatori di salute della Toscana. I ricercatori e statistici del nostro ente sono chiamati a svolgere il loro lavoro per rispondere alle esigenze informative di decisori politici e spesso sono chiamati a farlo in maniera molto veloce. L'idea di poter disporre di un Google di dati è sicuramente entusiasmante, in quanto va a migliorare in efficienza e velocità il lavoro quotidiano. L'IRPET è l'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, un istituto che ha ormai una storia antica, perché nasce nel 1969. L'istituto è progredito nel corso degli anni facendo una serie di studi, occupandosi fondamentalmente di studiare l'economia toscana, di studiarla nelle sue caratteristiche, di studiare nelle sue possibili evoluzioni, di fare previsioni e quindi di dare un sostegno all'azione di programmazione regionale. Proprio in questo lungo periodo l'IRPET è famoso anche per avere affrontato una serie di tematiche che poi diventate anche di interesse nazionale. La disponibilità di uno strumento come Odinet sicuramente è importante a vari livelli, sia per i cittadini che potenzialmente anche per i decisori pubblici e anche i ricercatori. Lo strumento permette, grazie all'introduzione di parole, concetti chiave, di recuperare molta informazione, dando vita anche a legami non banali e la restituzione dei dati è anche molto molto ordinata e diciamo che permette all'utente di selezionare l'informazione più utile ai propri scopi in maniera piuttosto rapida. Come sapete si vive in un mondo in cui la massa di informazione è impressionante, spesso ci vengono addosso e non abbiamo la capacità di selezionarle. Quindi è fondamentale sempre per avere strumenti che servono in qualche modo a ordinare le informazioni e anche appunto a far sì che queste informazioni parlino e quindi riescono a dare dal complesso di numeri che ci sono, che creano sempre caos se non sappiamo analizzarli, delle informazioni invece più organizzate, più standardizzate che consentono al lettore di capire la portata dei fenomeni. Il lettore può essere un cittadino qualsiasi, può essere invece anche chi governa la regione, un politico che ha bisogno di conoscere appunto in modo più organico spaccati della nostra economia, della nostra società in modo da poterli governare. Chiaramente dalla scelta del cliente, target del progetto possono scaturire una serie di scelte successive da parte degli sviluppatori del progetto perché chiaramente un cittadino, il cittadino qualunque piuttosto che il giornalista, piuttosto che il ricercatore o il decisore pubblico hanno esigenze diverse e quindi la scelta del cliente fa parte del gioco del futuro di Odinet. Odinet è arrivato alla fine del percorso di ricerca. Il gruppo di lavoro ha elaborato questa piattaforma che serve a pubbliche amministrazioni, a imprese, a liberi cittadini e a ricercatori. Il nostro prossimo obiettivo è quello appunto di portare avanti questo lavoro, riuscire a collegarci e lavorare maggiormente con le pubbliche amministrazioni, riuscire a sviluppare delle piattaforme di lavoro condivise che possono portare avanti il tema degli open data nella comunità scientifica ma anche nella comunità dei cittadini, alle imprese di grande e piccola dimensione che vogliono localizzare e vogliono conoscere i territori in cui vanno a fare degli investimenti, alla comunità scientifica e ai ricercatori che hanno voglia di conoscere i dati più aggiornati in maniera semplice e intuitiva. In conclusione Odinet può essere lo strumento adatto per liberare la potenza dei dati, per rendere i cittadini più consapevoli, i ricercatori maggiormente informati e le imprese maggiormente attente ai loro territori. Grazie. 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 Grazie.